La fine è successa, ma non solo per questa, ma per dire che tutte queste macchine di guida Cioè ogni tanto deve fare una volta il giornalista qualcuno per questa Ma queste, queste le vengono erogate Perché sai le altre macchine, cioè le altre Sì, le altre le tante Ci sono posti dove ce ne stanno molto più di più insomma Ma invece di queste, provare le difficili macchine così è difficile E' tanti che è il momento, queste due le vengono facci Ma questo è il primo numero di matto, ma non solo questa settimana, questo è un dentista di uomo E c'era la 50-60 Allora voi c'è la moglie con la regia Questo è il posto E' il 30-1 euro che è il posto Ma non mi ha fatto la pizze, ma non mi ha fatto la pizze Ma qui, a qui c'è la pizze, non c'è la pizze, non c'è la pizze Ma qui c'è la pizze, non c'è la pizze, non c'è la pizze Ma qui c'è la pizze, non c'è la pizze Ma qui c'è la pizze, non c'è la pizze